E' bello essere qua, è bello vedere tanti ragazzi e questa è una festa per loro, ringrazio Andrea Ceccherini per poter essere qui e parlare di futuro. E ormai di casa bagnaia perché John Elkan in queste dieci edizioni non ha quasi mai mancato un appuntamento. Il presidente e amministratore delegato di ExorMV è intervistato da Massimo Russo, direttore della divisione digitale Gedi. Molti di voi avete voglia di poter usufruire di quello che fanno i giornali anche su altre piattaforme. Elkan fa il punto sul mondo dell'editoria e sulla sua crisi. Vi state dicendo non comprando giornali, deve essere interpretato nel cercare di darvi l'informazione di cui voi avete bisogno, renderla interessante, saperla raccontare diversamente e non solo nell'usare mezzi diversi ma anche saperla fare, raccontare. Grazie a tutti.